La vendetta, si dice, è un piatto che si serve freddo. Meglio ancora sia il girone di ritorno, in casa, di fronte a un pubblico tornato a tifare come nelle grandi occasioni. È finita 1-0 per il Como la sfida al Sinigaglia con il Novara. Gara fondamentale per riscattare il 4-0 subito a novembre in Piemonte, fondamentale per restare a ridosso della zona play-off a due punti dal Bassano che ieri ha vinto, mentre Pavia e Alessandria hanno pareggiato. Partenza in salita per gli azzurri, il Novara si fa vedere al quinto minuto con Corazza che cerca la conclusione e all'undicesimo con una punizione insidiosa che però viene respinta da Crispino. Al ventottesimo la situazione si capovolge, calcio d'angolo per il Como, Tozzore spinge, Fietta raggiunge il pallone, crossa a Pergiosa che si gira e mette in rete. 1-0 per Ilariani, esplode il Sinigaglia. Il Novara prova a reagire, al quarantacinquesimo si rende pericoloso con un tiro potente da fuori aria di Buzzegoli. Alla ripresa continua la battaglia fra le due squadre, da un lato il Como che cerca il raddoppio per mettere in sicurezza la situazione, dall'altra il Novara che vuole il pareggio. Una lotta su tutti i fronti, su ogni pallone, ma gli azzurri riescono a restare compatti e concentrati. E se Crispino mantiene lucidità fino alla fine negando a Corazza la gioia del gol anche al novantunesimo, il Como tenta il contropiede al novantatresimo con Berardocco solo verso l'area avversaria. Finisce 1-0 al Sinigaglia. Applausi e sorrisi per gli azzurri, non c'è spazio per le polemiche del Novara sul gol di Giosa, non c'è spazio nemmeno per pensare alla classifica. C'è un'altra gara fondamentale a cui pensare, la sfida contro il Monza di sabato pomeriggio. Un'altra chance di riscatto per una squadra che ha un solo imperativo, vincerle tutte.